Identità confermata. Unità pronta e operativa. Unità pronta e operativa. La fuori devi imparare a vivere alla giornata. Sì? Mi fa male la schiena, mi fanno male i piedi, mi fa male dappertutto. Un altro giorno di duro lavoro. Non è che puoi darci una mano. Unità pronta e operativa. Unità pronta e operativa. La fattoria non è proprio, ma almeno è qualcosa. La fattoria non è proprio, ma almeno è un'altra cosa. La fattoria non è proprio, ma almeno è un'altra cosa. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio, ma almeno è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio, ma almeno è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio, ma almeno è proprio, ma almeno è proprio. La fattoria non è proprio, ma almeno è proprio.